Io utilizzo uno strumento che ha una lunga storia, quasi 5.000 anni, ed è passato in mano a tante culture, a siro-babilonesi, egiziani, ebrei, greci, romani, fino ad arrivare ai Celti, fino ad arrivare in Irlanda, e poi a diffondersi nel resto del continente europeo e poi in tutto il mondo lentamente. Questo è uno strumento appunto che raccoglie, come dire, immagini, pensieri, dimensioni, la memoria collettiva di varie etnie, e si combina magicamente non nella cultura di queste etnie solamente, ma nella percezione di essere di un territorio, di uno spazio. E oggi, siccome abbiamo possibilità di movimento, l'arpa riesce comunque a toccare punti dell'anima, del pensiero, che raramente altri strumenti riescono, come dire, a evocare. E la mia musica serve a quello. Poi le forme sono legate ai miei passati, al mio presente. Le due arpe sono la magia e l'idea, così, di unire mondi quasi impossibili. Due arpe insieme, suonate da un solo musicista, è una specie di paradosso, ma mi piaceva perché offre una visualità, una libertà, come ho detto all'inizio, di interpretazione artistica. I luoghi, spesso nel mio percorso anche al di là lavorativo e di tournée, capita spessissimo che sia, come dire, chiamato in luoghi magici, così come questi, legati alla natura, perché lo strumento, come dicevo prima, è molto legato alla pietra, all'acqua, all'erba, agli alberi. È uno strumento che evoca il principio. Mi piace molto essere qui, grazie a tutti.